Benvenuti in questo nuovo video con Rosalia Ciao! Come avete visto nel video suo è stata la festa di compleanno di Francesco Sì Abbiamo fatto tanti regali, tante persone, ha ricevuto tanti regali dagli altri Però adesso è arrivato il momento di agire, di fare un po' di soldi Sì, e per forza Soprattutto di recuperarli E nulla ragazzi, allora questa qua è la prima volta che faremo la rapina con Rosalia Sì E poi è la prima volta che proverà la punto Perché infatti ieri ti avevo mandato il messaggio Che ti ho detto vado alle gare clandestine con la Fiat Punto Però lei pensa che è una Fiat Punto normale ragazzi Invece non lo è Eh, non ho ancora a vedere No, infatti questa qua poi vedrai Monta il NOS, tutta bella, il tablet, le casse Vabbè, andiamo a vedere ragazzi Innanzitutto prendiamo il T-Max O girare il panico No, no, eh, ma infatti Soprattutto con il NOS perché già è veloce di suo, capito? Eh, immagino Poi pensa quando attivi quel NOS E poi soprattutto voi ragazzi Pensate quella macchina durante una fuga Con i carabinieri, mamma mia Cioè, se non siamo morti per le pistole Moriremo per la macchina Secondo me Eh sì Che la setti schianti è finita Allora, andiamo un attimo a Grob Prendiamo la Punto Poi andiamo ad acquistare l'esplosivo E facciamo questa rapina Tu sei pronta, carica? Sì, carica Devi, no, li devi venire tutti quanti a bada Gli ostaggi, eh Non devono fare niente Voglio il casino Devi essere violenta oggi Perfetto Spara uno a uno Eh, così Ti voglio carica Allora, mettiamoci qua ragazzi Mi prendo la macchina E ci vediamo non appena ho fatto Perfetto ragazzi Eccola qua L'abbiamo presa La Punto di ieri Che ci ha permesso di battere Golf, BMW, Audi Di tutto e di più Che ne pensi allora? Wow, ma è potente Eh sì, ma hai visto poi La macchina vecchia Gli ho aggiunto il tablet Là dentro Guarda quanto è grosso La cassa Guarda qua Che figo Cassa gigante Poi va bene Le marmitte Lo spoiler Bello Le miniconne qua sotto È una cosa Una cosa diciamo così Però è veloce Diciamo tutto quello che rende La velocità Diciamo È bella Però ma vede Le prestazioni E guarda però i fari Rosso E azzurro e viola E azzurro e viola Allora Perfetto Saliamo dentro E dirigiamoci un attimo Ok Ci dirigiamo un attimo A comprare l'esplosivo Ok? E poi si fa subito Questa rapina Ora ti faccio pure provare No Dimmi tu quando posso Aspetta che sono in macchina Permesso Via Vado Eccolo Vado Vado Hai visto? Madonna 250 Mi sono tutti sotto i capelli Non lo alzo Perché sennò Non lo attivo sempre Perché sennò Poi finisce prima di scappare Vabbè Io non mi sono prima A scoprire Non so mai Ma poi Oppure con questi scoppietti È una macchina Che ti fa Un mal di testa Però Rende Rende Allora vai Prendiamoci l'esplosivo E facciamo casino Facciamo soldi Alla fine Da una parte Bello e brutto Perché Francesco Sa che noi Non facciamo niente di male Però vedi Ho comprato i regali E io devo recuperare Sti soldi E l'unico modo È questo Perché Francesco non deve sapere niente Perché è ancora piccolo E ancora non capisce Vedi il tablet qua Qua Che figo Ah questo avevamo su Facebook Questo sarebbe Facebook Vedi Eh ma qua qualcuno ha cliccato Perché non sono andato a vedere io Questo profilo Non lo so Eh che l'ha visto Secondo te tu Porti sta macchina No E che mi interessa di questa A me Ma E chi lo sa Che combina Quando sto su Perfetto Siamo arrivati Ho una proposta da farti Cosa Franklin Io ti vendo la mia E tu mi dai la punto E quale mi vendi tu Una macchina Quale è io Ok No questa qua la devo tenere No no Questa non va a partire a me Aspetta un attimo Che mi prendo l'esplosivo Oggi è casino eh ragazzi Eccolo qua Acquistato Arrivo eh Eh che si muove Ok perfetto ragazzi Abbiamo acquistato L'esplosivo Yes E adesso ci dirigiamo alla banca Facciamo una banca che Non colpisco da Da molto tempo E sarebbe Questa qua Ok Ok Buon andiamo a vedere Perché da sicuro Che ho scelto quella là Dove sta la caserma Cioè scemo come i soli Eh eh Proprio quella Raffiato Non accende il now No no Questo non è il nostro È i scoppiettini Senti Il nostro è tutta un'altra storia I scoppiettini Poi se lo dovrei scoppare Mone che teniamo sta cosa Eh non ho messo neanche lo stereo Penso se metto lo stereo E' finito Eccolo E' normale Già sta ai 200 Il nostro è solamente Per fare casino Ma per poco Ma tanto ragazzi Adesso la testeremo Durante la fuga Alla c'è da divertirsi I poliziotti Veramente usciranno pazzi Già si usciranno così Guarda dai Una piccola sgrassatina Guardi Eccolo qua la banca Ok perfetto ragazzi Siamo arrivati alla banca Maronna Mi fa un casino Allora Noi mettiamo sempre la macchina qua Ecco Ok Ora sei pronta? Yes Appena facciamo irruzione qua E' finita Fermi tutti Questa è una robina Giù State giù Se no mi sparo Giù Inizia a spaccare Devi stare giù Signola Giù 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 Devi stare giù Hai capito o no Ok Tu tieni a bada loro Io mi faccio un attimo Le telecamere Ok Non vi dovete muore State giù Fali sta zitti Dai zitti Le fate morire Eh lo so ma perché L'avvertimento a questi qua Capito Perfetto Piazziamo l'esplosivo Date una morsa però Vai vai Uno Ora ci siamo allontanano Proprio da qua Per fare un bel botto Arrivano i camerieri Che capito No Quali che vanno i camerieri No I camerieri Ok Dove stai? Copriamoci Copriamoci Copri Attento Eccola qua Tutti giù Oh Ma dove sei l'esplosivo Giù Dì io Fermo Mannaggia La miseria Tieni a bada quello Ok Ok Io vado Vai 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 Vediamo quanti Non si capisce più niente Questo fumo Vediamo quanti soldi Ci fa fare Eh che cavolo Dove pigliare qua No Il trapano Dai Datti una mossa Ci prova Questo qua Se si brucia Perché si può Riscaldare la punta Ti No Aspetta Ti solo ti avvertisco Che stanno venendo I carabinieri Eh lo so Vediamo Vediamo Almeno Più di 600 mila Fatemeli fare C'è un carabiniere Quanto mi ha fatto fare? Vai 470 mila Stai giù Coglione Stai giù Mannaggiamo Si Ha fatto sforzo 470 mila Dove stanno i carabinieri? Stanno Così Ah Quanto le so Attenta Eccoli qua Eccoli qua Spara Aiutami Mori 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 Rompi la macchina Sti carabinieri Vai Oggi è casino Anche qua Stanno Ok saliamo Tu spara dalla macchina Dove ti metti Corri 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 Ma questi ci bucono le gomme Vai 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 Tu spara Mori Mori Qua si volano Qua si volano Qua si volano Qua si va di controllo Non c'è la miseria E quando ci pigliano ragazzi Quando Oggi è proprio È impossibile per loro Oggi è festa Oddio C'è l'uomo là Oh madonna Mori Dove va quello Oh no C'è la miseria Porca parla Oh Meno male che ci muo le gomme antiproietti Tu di qua Tu di qua Tu di qua Tu di qua Tu dove vai Tu di qua Oh Guarda su un coglione Questo Oh no C'è la miseria Oddio No Ci siamo bloccati No Senza lita Oh Oh Madonna Madonna Vai con la punto La punto ce la fa La punto Porca miseria Oh C'è la punto Già fa schifo di suo Quella facciamo via Pure ste botte Ehi Che se ne può Sei braccetti Come fanno Eh Poi se ne para Ok Amore Andiamo a seminare Oh Vai vai Ok Nascondiamoci Adesso Ne sono troppi Ne sono troppi Ne sono troppi No Ci ha preso Quello Visto Bastard Ci ha piato in pieno Quello No No Ma ci sono solamente Nascondere Dai Ti devi mettere Da un pizzo Sì sì Io perché vedo Poi il gps Sta lampeggiando Quindi vuol dire Che non ci stanno Ok Ok Ora giriamo di qua Ne sono troppi Sì Meglio nascondersi Oh Basta pesce Posso fare Anche ci ha arresto Sì 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 Perfetto ragazzi Finalmente abbiamo Seminato la polizia Era ora No Eh Ma vedi che cazzo Hanno combinato Eh Questa qua Devo far giustare Perché è un peccato Però la potevo provare Si è comportata bene Sì Cioè è stato un suicidio Con questa macchina Però È andato bene È nulla ragazzi Abbiamo fatto 400 mila dollari Mi aspettavo di più Sinceramente Eh vabbè Però è andata bene Dai Abbiamo scelto una banca Un po' più spazia Eh Ma era pure Vediamo un attimo l'ora Eh Vedi le quattro Le quattro La gente è già privata Capito I vecchi La pensione La mattina Sti cazzo di vikings Fanno i patto E vabbè Dai ragazzi Con questo è tutto Noi ci sentiamo al prossimo video Ciao Bella